È Miguel Angelberna da Saragosa, ballerino di fama internazionale, ad inaugurare la seconda edizione del Festival Internazionale della Danza 2012, una rassegna nata dalla fruttosa collaborazione tra l'Accademia Filarmonica Romana ed il Teatro Olimpico di Roma per raccontare, in modi diversi, il linguaggio del corpo, dall'altro ieri al 22 aprile. Mujdar bailando mitierra è uno spettacolo straordinario, nato per avvincerti e conquistarti. Quando l'incantesimo inizio c'è solo la complice magica penombra, squarciata da sottili coni di luce, dentro cui Miguel Angel e i suoi sette ballerini si muovono sicuri accompagnati da un complesso di sei elementi e una cantante. Il sogno comincia con una solo in cui Miguel Angel sembra tirar fuori molteplici personalità. Uno, nessuno, centomila lui, che danzano con passi così veloci che è quasi impossibile seguirli, mentre le castagnuela di ferro costruite apposta per lui sincopano a un ritmo parossistico. E il pubblico, galvanizzato, va dietro questo matador del ballo che lo fa volare con un'alchemica combinazione di diversi stili di danza spagnoli da non perdere.